È un bilancio sicuramente di scarso significato, visto che riguarda 38 giorni da quando è stata costituita nuova Banca Etruria il 23 novembre fino al 31 dicembre. Un bilancio privo di elementi di confronto e limitato proprio dal ristretto periodo di rilevazione, coinciso con una fase particolarmente ricca di difficoltà e di reputazione nei confronti di azionisti e obbligazionisti subordinati, oltre che dalla forte pressione mediatica riscontrata. Comunque Nuova Banca Etruria ha deliberato oltre 2.000 pratiche di fido per circa 274 milioni di euro nelle prime otto settimane. I crediti verso la clientela a fine dicembre 2015 si attestavano a 3,9 miliardi di euro. L'indice di copertura delle inadempienze probabili si attestava al 31%. Sempre a fine 2015 la raccolta diretta complessiva del gruppo si attestava a 5,4 miliardi, quella indiretta a 4,5. Il valore complessivo della raccolta diretta indiretta è dunque di circa 9 miliardi di euro. Il risultato netto della gestione finanziaria di competenza risulta positivo per 5,9 milioni di euro. Nel bilancio pesa la voce spese amministrative pari a 33,3 milioni di euro, che comprende per oltre 14 milioni i contributi ordinari e straordinari al fondo di risoluzione e al fondo interbancario di tutela dei depositi. A fine 2015 il risultato dell'operatività corrente all'ordo delle imposte è dunque negativo per circa 22,9 milioni di euro ed è comprensivo dell'utile derivante dalla gestione realizzata dalla capogruppo della partecipazione in Banca Popolare Lecchese perfezionata il 18 dicembre. L'esercizio di nuova Banca Etrugia chiude dunque con un risultato negativo di 23 milioni di euro.